Natalia Paragoni felice di poterle finalmente mostrare ai suoi tantissimi follower, l'influencer indossa un vestito che brilla e la scollatura è pazzesca. Natalia Paragoni con la sua straordinaria bellezza e la sua sensualità ha lasciato come sempre i suoi tantissimi fan senza fiato. Nella serata di ieri ha postato alcune photos la mostrano più bella che mai, ai fan non è però sfuggito un piccante dettaglio. Negli scatti la meravigliosa influencer e modella si è detta felice di poter finalmente mostrare ai suoi affezionati follower le foto di un make-up che le è piaciuto moltissimo, l'occhio dei fan però è caduto più in basso. La Paragoni indossa un vestito che brilla, la scollatura è davvero profonda e manda il web in tilt. Più bella e sensuale che mai Natalia Paragoni ha conquistato come sempre tutti. La scollatura del vestito che indossa inevitabilmente fa cadere l'occhio dei fan sul suo décolleté da urlo. Ancora una volta l'influencer ha fatto il boom di complimenti e l'iché, è stupenda. Natalia Paragoni è riuscita ancora una volta a catturare piacevolmente l'attenzione dei suoi tantissimi follower. D'altronde, con la sua incredibile bellezza e il suo corpo da favola è impossibile che passi inosservata. Dopo l'esperienza vissuta circa due anni fa a uomini e donne la nota influencer continua ad essere sempre più seguita e amata sui social. Ad oggi conta 953.000 follower sul suo profilo Instagram, questi non perdono occasione per ricordarle quanto sia meravigliosa.